dopo i disordini di san martino quelli in cui era stato coinvolto renzo sembrava che la situazione fosse migliorata e addirittura la carestia terminata la gente visto che il prezzo del pane e della farina erano diminuiti cercò di approfittarne e accumulò delle scorte oltre il necessario il governatore di milano emanò delle leggi ma i provvedimenti non sortirono alcun effetto anzi peggiorarono le cose e la carestia terminate le scorte di grano ritornò di conseguenza molta gente impoverì milano si riempì di mendicanti molte botteghe chiusero tanti contadini erano stati costretti a spostarsi in città nella speranza di trovare un modo per sopravvivere ma non c'era posto per tutti e girando per le strade ci dice il manzoni si vedevano persone dormire sui marciapiedi tra la sporcizia e i morti di fame erano sempre più numerosi il cardinale federigo borromeo aveva incaricato i sacerdoti di andare in aiuto alla povera gente con ogni mezzo disponibile come del resto faceva lui stesso ma anche queste azioni di carità non bastavano dopo mesi di questa situazione l'amministrazione cittadina decise di recuperare una costruzione che era adibita a magazzino e dedicarla al ricovero dei senza tetto il lazzaretto ben presto il lazzaretto si riempì fino all'inverosimile addirittura si calcolano circa 10.000 persone le condizioni poi al suo interno erano disastrose la peste intanto si era diffusa e mendicanti e malati giacevano gli uni accanto agli altri in condizioni igieniche spaventose scarseggiava il pane perfino l'acqua era poca e anche malsana le autorità sanitarie pensavano che forse tenere tanta gente ammassata avrebbe favorito il diffondersi del contagio perciò fece ricoverare i malati nell'ospizio di santa maria della stella e lasciò libero chi non era malato in questo modo però le strade della città si riempirono nuovamente di mendicanti nel frattempo si stava combattendo da circa dieci anni una guerra quella per la successione del ducato di mantova tra la francia e la spagna come spesso accade il duca di mantova vincenzo secondo gonzaga era morto senza lasciare eredi e sia la francia che la spagna sostedevano i propri candidati alla successione ferdinando d'asburgo che era alleato della spagna ricorse a un esercito di mercenari i lanzichenecchi che invasero molti territori del milanese aggiungendo violenza e saccheggi alla già difficile situazione i lanzichenecchi entrarono in milano dalla valtellina seguendo il corso del fiume adda e attraverso la valsassina nel territorio di lecco infatti anche nel paese di lucia alla notizia dell'arrivo di questi mercenari la gente cercava di mettersi in salvo scappava lasciava le case agnese perpetua e don abbondio si misero in viaggio per chiedere rifugio al castello dell'innominato che ormai dopo che si era convertito aveva completamente cambiato vita non girava più armato ed era ammirato e rispettato da tutti la maggior parte dei suoi bravi se n'era andata perché non accettava la nuova vita e l'innominato li aveva lasciati assolutamente liberi quando anche nel suo territorio cominciarono ad arrivare le notizie dell'avanzamento dei lanzichenecchi l'innominato organizzò la difesa di tutta la valle mentre molta gente affluiva al suo castello i tre si fermarono circa tre settimane mentre infuriavano i combattimenti e furono gli ultimi a lasciare il castello agnese carica di doni per lucia proprio da parte dell'innominato tornati al loro paesello i tre si accorsero che questo era stato completamente devastato dal passaggio dei lanzichenecchi siamo arrivati così al trentunesimo capitolo quello nel quale manzoni spiega come la peste fosse diffusa portata dalle truppe tedesche citando fonti storiche e criticando l'operato delle autorità la mancanza di igiene la carestia la povertà il passaggio dei lanzichenecchi l'incapacità di chi governava il territorio e l'ignoranza della gente tutto questo fece sì che i primi manati venissero sottovalutati e non fossero prese le misure adeguate i due storici dell'epoca su cui si basa manzoni sono alessandro tadino e giuseppe ripamonti addirittura ci dice il manzoni all'inizio dell'epidemia perfino i medici negavrono la peste fino a che a marzo il contagio fu assolutamente evidente i malati di peste vennero portati all'azzaretto dove erano curati dai frati cappuccini gli unici che si occupassero di loro man mano che l'epidemia si aggravava la gente cercava di dare la responsabilità del morbo a qualcuno si cerca sempre di trovare un responsabile in questo caso gli untori chi erano gli untori ma secondo la credenza popolare erano delle persone che sarebbero andate in giro per la città a ungere con sostanze contaminate i muri delle case o gli oggetti nessuno sapeva più cosa fare così gli amministratori di milano chiesero al cardinale borromeo di organizzare una processione ma il cardinale borromeo rifiutò perché non gli sembrava una buona idea nel frattempo però la gente non ragionava più spinta dalla disperazione bastava vedere un uomo appoggiarsi a un muro e la folla lo accusava di essere un untore questo veniva picchiato portato in prigione per poi essere processato e spesso anche condannato nel frattempo il cardinale sotto pressione per le continue richieste da parte delle autorità cittadine cedette e organizzò una processione l'undici giugno a cui parteciparono moltissime persone con le conseguenze che puoi immaginare dal giorno dopo infatti la situazione a milano si aggravò e la popolazione fu letteralmente decimata nacque una nuova professione quella dei monatti chi erano i monatti erano ex contagiati che però erano guariti e che avevano il compito di liberare le case e le strade dai cadaveri il lazzaretto poi non riusciva più a contenere la gente che fu messa in tende di fortuna e insomma accatastata veramente dove c'era un po di spazio manzoni ci racconta di come purtroppo quella situazione tirasse fuori il lato peggiore della gente i monatti si facevano pagare molti soldi alcuni invece si fingevano monatti entravano nelle case per rapinarle altri continuavano ad essere accusati di essere un tori insomma sembra che la situazione arrivati a questo punto è assolutamente in città fuori controllo